Lucio Caracciolo, quindi in sostanza le sanzioni sono un'arma spuntata da una parte? No, sono un'arma puntata anche contro di noi, cioè lui ha delle armi con cui spara in una direzione, noi abbiamo delle non armi che sparano contro di noi, oltre che contro di lui, solo che a lui non fanno effetto a noi sì. Contro di noi perché se per esempio... È evidente che se dovessimo fare delle sanzioni tipo appunto quelle su Swift o anche in campo energetico, non ne parliamo, i primi a soffrirne saremmo noi. Comunque vorrei segnalare che in questo giorno di guerra il volume di gas che è passato dall'Ucraina all'Italia è aumentato del 25%, i russi non hanno nessuna intenzione di interrompere i flussi energetici anche perché devono pagare questa guerra, e noi nemmeno. E' certo, che gliela paghiamo noi in sostanza. Quindi insomma siamo entrati in una partita in cui come ti muovi sbagli per usare un termine volgare ma un temo pertinente. Scusami Lucio Caracciolo, abbiamo preso una cartina di Lime, se l'abbiamo riadattata, ecco qui vediamo le forniture di gas che arrivano dalla Russia e che storicamente passano attraverso l'Ucraina e in tutti questi anni Putin dopo la fine della guerra fredda ha cercato di aggirare in modo da rendere l'Ucraina sempre più debole, soprattutto attraverso il sud e il nord, quindi il gasdotto Nord Stream che è stato in questo momento bloccato o meglio sospeso perché Scholz si prende tempo ma che per un bel pezzo resterà inattivo. E l'espansione della Nato a Est? Anche qui abbiamo una cartina che ci spiega che è insomma negli ultimi. La Nato a Est è stata la causa movente di tutta questa crisi, dal punto di vista russo la Nato è un nemico che ti sta entrando in casa e l'allargamento che abbiamo fatto a partire dalla fine degli anni 90 in maniera molto sistematica, dal punto di vista russo è percepito come una minaccia esistenziale e dal punto di vista di Putin l'idea è che alla fine noi avremmo provocato anche la caduta del suo regime. Generale Tricarico, allora...